E ben ritrovati con Cisli Guira News, l'approfondimento sindacale sulle tematiche occupazionali del nostro territorio regionale. Oggi ci spostiamo in peria per analizzare lo stato di salute e delle attività produttive del nostro opponente Ligure, in particolare il gruppo Colussi. Dal 16 dicembre prossimo, infatti, 28 dipendenti del marchio storico Pastagnesi finiranno in cassa integrazione, un problema che si allarga tutta la filiera agroalimentare del nostro territorio. Abbiamo sentito il segretario generale della Cisli Imperia Savona, Claudio Bosio. Che futuro avrà la Pastagnesi e il gruppo Colussi ad Imperia? Noi abbiamo avviato una serie di incontri, sia all'interno dell'azienda, con l'azienda, con la direzione aziendale, sia con tutti i movimenti, gruppi e partiti politici, perché riteniamo che il marchio Agnesi, oramai del gruppo Colussi, nato nel 1824, sia una realtà, un'identità che si sposa sul territorio. Noi crediamo che deve essere portato avanti un ragionamento di confronto, dove tutte le parti sociali, datoriali e la politica, possa portare avanti un progetto comune per far sì che l'imprenditore rimanga, si leghi al territorio. Non solo pasta, quindi, ma tutta la filiera dell'agroalimentare, partendo da una volontà che è politica, che è sociale, del 2003. Crediamo che per fare questo occorre attivare realmente la realtà del distretto agroalimentare, dove possono inserirsi più aziende di questo comparto, di l'italia e del nostro territorio. La priorità sarà dunque trovare aree disponibili sul territorio per la delocalizzazione di quella realtà produttiva. Abbiamo incontrato tutti i movimenti, i partiti politici, c'è stato un dibattito molto attento in Consiglio Comunale e anche in Consiglio Provinciale. Nei prossimi giorni verrà attivato un tavolo di confronto con l'associazione comunistiale, i CGL, i Cisluil, il Comune, la Provincia e i delegati della Regione per vedere come in questo territorio si possono trovare delle aree che possano consentire, a mio modesto avviso, una delocalizzazione di quella struttura, ma che non ci sia solo quella struttura, qualora l'imprenditore ritenga di rimanere in provincia di Imperia e continuare a mantenere la realtà produttiva del business della pasta e non solo perché credo che quella azienda deve attivare un piano studiale, diversificare il prodotto, attivare un piano di promozione, ma in un contesto che è legato fortemente al territorio, in un'area dove arriveranno altre aziende e dove si possa consentire una riqualificazione di tutta l'area del fronte mare, compresa la porta del mare. Con questo abbiamo concluso, ma vi ricordiamo che per approfondimenti, notizie e informazioni è possibile consultare il sito internet www.liguria.cislu.it. Grazie per l'attenzione e alla settimana prossima.